Sabato e domenica, 12 e 13 novembre, abbiamo questa manifestazione che quest'anno per la prima volta ci vede raccolti come figuranti della contesa che hanno come loro numero clou la rappresentazione storica del 2 settembre di ogni anno in Piazza San Lorenzo e gli esercenti ricettivi di Symposium Vini e l'Osteria San Pellegrino ci rincontriamo nelle piazze di San Pellegrino e Piazza Cappella. Sarà motivo di poter rievocare l'uso del tempo che era nella vita quotidiana come scene di illustrazione delle arti, dello scalpellino, della cucitura degli abiti e anche della cottura di cibi che in questo momento, che noi ricordiamo come stadio di San Martino, quindi un fatto che di leggendario vuol dire che un atto di generosità corrisponde anche a un momento di ringraziamento da parte del cielo. Ecco, noi ci rincontriamo per poter gustare gli odori, quindi l'odore della vinificazione, il vino novello, la cottura delle caldarroste a quello dei sapori che in queste pietanze possono poter permetterci di poter gustare. Grazie.